Salve, io sono Irene Boni e ho avuto l'opportunità di presentare il corso per l'elumatore cinofilo comportamentale alla Scuola Tughe del Toghe di Stefano Pesci. In questo corso ho avuto modo di acquisire moltissime competenze per quanto riguarda il linguaggio del cane, i suoi bisogni, il modo in cui possiamo rapportarci a lui nella maniera più giusta e sanitaria e rispettosa per entrambi e soprattutto aspetti importanti e non conosciuti purtroppo ancora a livello diffuso come le cause dello stress, la sintomatologia e le possibili soluzioni che si possono attuare per risolverlo, come poi le conseguenze che possono derivare dallo stress, ovvero anche la paura, l'aggressività e come affrontarle al meglio andando sempre incontro all'animale e creando con lui collaborazione, empatia, positività, quindi rispetto senza assolutamente né metodi coercitivi, né corruzione, né violenza o ostilità. Quindi con i giusti strumenti come la tettorina d'acca, il guinzaglio lente, si riesce a costruire un rapporto che sia autentico, profondo e soprattutto sano per entrambi. Quindi sono arrivata ormai alla fine del mio percorso, mi sono diplomata come educatrice sinopila comportamentale alla scuola su Getter Dog di Stefano Pesci e sono contenta di aver raggiunto il mio obiettivo. Vi ringrazio e buona serata.